Terra Mara, anticipazioni della puntata serale di domenica 26 novembre dove vedremo Umit lottare tra la vita e la morte. Quando Umit finisce di scattare le foto a Fikret e Zuleya si gira per andarsene ma si trova davanti Fekeli che le strappa di mano la macchina fotografica, la getta a terra e le dice di vergognarsi che sa che ha rapporti sia con Fikret che con Demir. Lei nega e gli chiede se glielo ha detto Demir. Fekeli allora ripensa quando Sevda gli aveva confidato che Umit è sua figlia e che la ricatta per farsi aiutare a separare Demir e Zuleya e che se non lo farà la perderà. Fekeli le risponde che non le permetterà di distruggere Demir e la sua famiglia. Umit gli ribatte che Demir le ha fatto delle promesse che non ha mantenuto e che lei lo ama. Fekeli le avverte ribadendo di stare lontana da Demir e dalla sua famiglia. Umit protesta ma Fekeli le avverte che se non la smette dovrà affrontarlo e ne subirà le conseguenze. Dopo queste parole Fekeli se ne va ma Umit afferma che non si arrenderà. Intanto Zuleya incontra l'investigatore Saide che le riferisce che si è procurato i gruppi sanguigni di Fikret e del Musa e confrontandoli è risultato che non sono padre e figlio. Poi le chiede il gruppo sanguigno di Demir e quando lei glielo dice Saide afferma che potrebbero essere fratelli. Poco dopo Zuleya raggiunge Demir in ufficio e lei gli dice che deve riferirgli una cosa ma non deve arrabbiarsi. Demir promette e allora Zuleya gli dice dell'incontro che ha avuto con Fikret e il perché. Demir naturalmente va su tutte le furie allora Zuleya gli fa vedere il risultato delle analisi del sangue che provano che Fikret non è figlio di Musa. Demir le dice che non aveva diritto di indagare e che non gli importa se è suo fratello. Zuleya ribatte che non vuole un marito morto o in prigione ma lo vuole vicino a lei e ai suoi figli e se ne va arrabbiata lasciandolo infuriato. Quando Zuleya torna a casa trova ad aspettarla la moglie di Rashid che le dice di essere stata vittima del matrimonio tra lui e Fadik e le chiede i soldi per mantenere il figlio altrimenti la farà vergognare davanti a tutta Cukurova. Zuleya irritata la fa allontanare da due inservienti e le proibisce di tornare alla villa. Mentre Fikret sta aspettando Umit lo raggiunge Fekeli che arrabbiato gli chiede da quando è diventato un bastardo senza cuore. Fikret gli dice che non ha fatto niente ma Fekeli molto alterato lo accusa di aver fatto scattare delle foto da Umit per diffamare una donna innocente ma Fikret gli ribatte che a Demir non è importato di diffamare sua madre. Fikret gli ricorda che ha iniziato lui ma Fikret lo accusa di difendere sempre Demir. Fekeli inferocito gli ordina di tornare in Germania e di non fare del male a se stesso e agli altri. Mentre Fekeli e Cetin sono in azienda arriva Fikret che raduna tutti gli operai e annuncia che non lavorerà più lì perché Fekeli non è il suo vero zio e stende le chiavi dell'azienda a Fekeli che però non le prende così come Cetin. Allora le lascia a terra e dice a Fekeli che gli augura buona fortuna insieme al suo nuovo figlio Demir e che sta sottovalutando tutta la situazione. Tutti a partire da Cetin commentano che Fikret è un ingrato dopo tutto quello che Fekeli ha fatto per lui. Mentre Fikret è in macchina lamentandosi di Fekeli buca una gomma e si deve fermare. Poco dopo lo raggiunge Mushgan e lui le dice che è stanco e si sente perso e lei lo consola e lo accarezza. Intanto Fekeli viene raggiunto dal suo avvocato alla quale dà disposizioni di annullare subito l'autorizzazione alla firma di Fikret e trasferire i soldi dal conto cointestato al suo personale così che Fikret non avrà più nessun collegamento con la sua azienda. Contemporaneamente Fikret dice a Mushgan che Fekeli lo incolpa sempre urlandogli contro e che non è suo zio. Mushgan gli risponde che il legame di sangue non è importante ma lui le ribatte che invece per lui è tutto anche se si sente sbandato. Mushgan gli dice che lui ha un buon cuore ma che deve controllare i suoi nervi e tutto si risolverà. Fikret le racconta che Fekeli gli ha detto di tornare in Germania allora lei gli propone di andarsene insieme e di costruirsi una nuova vita. Fikret è stupito e allora lei gli chiede se la ama lui le risponde che ha perso tutto e gli è rimasto solo lei e il suo amore. Allora Mushgan gli ripete di andare via insieme e ricominciare tutto da capo. Fikret le chiede se lo ama così tanto e se ne vale la pena. Mushgan gli assicura di sì e che vuole passare tutto il resto della sua vita con lui che lo renderà felice e gli farà dimenticare tutte le cose brutte che ha vissuto. Lui la abbraccia sorridendo. Poi Mushgan gli dice che saluteranno Fekeli ma lui le dice di no perché non merita un suo saluto. Lei gli spiega che non può non salutarlo e che dovrebbe farlo anche lui. Fekeli raggiunge Demir in ufficio e gli dice che Fikret non è più suo nipote e che lo vuole mettere in guardia da Umit. Quindi gli dice che sa della loro relazione ma Demir gli dice subito che è stato un errore. Allora Fekeli gli riferisce che Umit era la ragazza di Fikret quando erano in Germania e adesso stanno collaborando insieme per distruggerlo e che deve stare attento. Demir infuriato va subito a casa di Umit. Lei vedendolo alterato manda via la domestica. Demir la insulta e le chiede che piani a con Fikret. Umit finge di non capire ma Demir le dice di smetterla con le bugie. Allora Umit gli dice che la storia con Fikret è finita in Germania ma che l'ha convinta ad andare a Chukurova per aiutarlo. Qui però si è innamorata di lui e non gli farebbe mai del male. Demir non le crede e le ordina di lasciare subito Chukurova altrimenti ci penserà lui. Umit lo minaccia di dire tutto a Zuleya ma Demir le risponde che lo farà lui stesso. Subito dopo la raggiunge Mushgan e Umit gli dice che Demir l'ha distrutta e che racconterà tutto a Zuleya e che le ha intimato di lasciare Chukurova nonostante gli abbia detto che lo ama. Mushgan le consiglia di allontanarsi per un po' che le farà bene ma Umit le ribatte che non vive lontano da Demir. Mushgan la consola poi le dice che andrà in Germania insieme a Fikret dove inizieranno una nuova vita. Umit le dice che quando se ne andrà si sentirà sola ma Mushgan le dice che è forte e che starà bene e che la loro amicizia non finirà. Poi le spiega che non ha più una vita lì e che Fikret finché non va via non cambierà. Quando Demir torna a casa parla con Sevda e le riferisce che Umit era l'amante di Fikret e che si sono uniti per fargli del male ma per fortuna Fekeli lo ha avvertito. Sevda preoccupata gli chiede se ha aggredito Umit ma lui la rassicura dicendo che le ha detto di lasciare il paese e di aver deciso di raccontare tutto a Zuleia. Sevda lo prega di non farlo perché ha perso da poco un bambino ed è fragile. Quando Fikret torna a casa di Umit e le dice che se ne va lei gli ribatte che lo sa e lo accusa di non aver pensato a lei e che per amore ha dimenticato la vendetta quando stavano per distruggere Demir ma Fikret le risponde che il loro piano è fallito quando lei si è innamorata di Demir. Fikret sta andandosene ma lei lo ferma dicendogli di dire a Demir che è stato lui a convolgerla nei suoi piani e che lei lo ama. Fikret la ignora e scende le scale allora Umit lo aggredisce ma scivola e cade lungo tutte le scale perdendo i sensi. Fikret la raggiunge sconvolto. Più tardi Fikret va in ospedale da Mushgan e le dice di prendere il bambino e di partire subito. Lei gli risponde che deve salutare i fecheli ma Fikret le ribatte che lui la convincerà a non andarsene. Lei lo assicura che non accadrà allora Fikret le dice che se lui resterà ancora sarà morto o sarà un assassino e le richiede di partire subito. Quando Mushgan torna a casa trova Fecheli e Lucie che giocano con Ker e Malì e che lui le dice che il bambino è la sua unica ragione di vita. Mushgan pur sentendosi in colpa prende il bambino e va in camera. Qui lascia una lettera per Fecheli e prende le sue cose comprese le foto di Demir con Umit. Quindi raggiunge Fikret che le dice che andranno a Mersin e da lì saranno in Francia e poi in Germania. Mushgan gli risponde che è triste per Fecheli allora Fikret le assicura che una volta che si saranno sistemati lo chiameranno e lui la perdonerà perché le vuole bene e poi le dice che se staranno insieme supereranno tutti i loro problemi. Charmin e Fusun decise a scoprire il segreto del nome di Umit decidono di andarla a a casa sua. Quando arrivano vedono la porta socchiusa allora entrano e la trovano svenuta in fondo alle scale. Accertatesi che è viva chiamano un'ambulanza e in quel momento arriva la domestica che Umit aveva allontanato e che l'ha vista insieme a Demir. Zuleya torna alla villa con Fadik e davanti a tutti racconta di essere stata ricattata dalla donna che dice di avere un figlio con Rashid. Quindi sono andate ad informarsi nel suo paese dove il sindaco le ha riferito che quando la donna ha sposato Rashid era già incinta di un altro uomo. Dopo questo chiarimento Fadik perdona Rashid e Zuleya lo riassume alla tenuta nonostante le proteste di Ghaffur. Poi Demir le dice che le deve parlare ma vengono interrotti dall'arrivo della polizia che lo arresta per tentato omicidio di Umit che è in coma. Demir sorpreso si dichiara innocente. Mentre Charmin e Fusun stanno lasciando l'ospedale vedono arrivare di corsa Sevda e allora le vanno dietro. Sevda si informa su Umit e le riferiscono che Umit è in sala operatoria e che andrà tutto bene. Charmin e Fusun la vedono sconvolta e sentendola piangere iniziano a fare supposizioni. Baitiar avverte Fekeli che Umit è in ospedale gravemente ferita e che dicono che sia stato Demir Yaman. Charmin e Fusun vanno a Villa Yaman e qui apprendono che Demir è stato arrestato. Allora Charmin decide di fermarsi per dirigere la casa. Fekeli raggiunge Sevda in ospedale e lei piangendo gli dice che non può perdere sua figlia adesso che l'ha ritrovata. Fekeli le confessa di sentirsi responsabile perché se non avesse parlato con Demir non sarebbe successo ma Sevda gli risponde che è sicura che non sia stato Demir. Quindi gli racconta che Demir è andato a parlare con Umit e quando è tornato a casa le ha riferito di averle solo parlato ed è sicura che lui non le ha fatto nulla. Fekeli le chiede se Demir sa che Umit è sua figlia. Sevda risponde di no ma che glielo dirà. Fekeli le dice di aspettare che lei si svegli e di starle vicino. Intanto Lucie va a cercare Mushgan nella sua camera ma non la trova però vede la lettera che ha lasciato a Fekeli. Allora lo avverte e quando Fekeli arriva a casa Lucie in lacrime gli dà la lettera di Mushgan nella quale gli scrive che lui è la sua famiglia ma se ne deve andare per iniziare una nuova vita con Fikret e che quando si saranno sistemati lui potrà vedere Kerem ma lì quando vuole e gli chiede perdono. Fekeli è distrutto dal dolore e dice a Lucie che gli hanno portato via il figlio del suo Ilmas e con lui la voglia di vivere che ha sofferto e sopportato tanto nella vita ma adesso non ce la fa più e scoppia a piangere mentre lei cerca di confortarlo. Intanto in commissariato il procuratore sta interrogando Demir e gli dice che la donna delle pulizie ha testimoniato che lui era a casa di Umit e che urlava arrabbiato. Demir lo conferma e gli spiega che Umit è un'amica di sua moglie e che aveva saputo da Fekeli che lei è fidanzata con Fikret e avendo capito che Umit fingeva di essere loro amica per fargli del male d'accordo con lui è andato a dirle di stare lontano dalla sua famiglia. Il procuratore gli chiede se le ha fatto del male ma lui ribadisce di essere innocente. Quando Sevda torna a casa trova Sharmine che subdolamente le dice che Demir ha picchiato Umit e che spera che non muoia. Sevda le risponde che non è stato Demir anche se gli sarà difficile discorparsi nel caso lei morisse. Poi le racconta di essere andata in ospedale per vedere la situazione e le hanno detto che è grave. Sevda va in camera sua e qui prega per la salvezza di sua figlia. Nel frattempo Mujgan e Fikret sono a Mersin e vanno a stare in un hotel finalmente felici e lui le dice che sta cercando di avere il passaporto del bambino nel più breve tempo possibile. Mujgan gli confida che nella vita ha voluto bene solo a Fekeli e che è triste per lui e per avergli portato via il nipotino. Fikret le risponde che lui la ama tanto e la perdonerà ma che non perdonerà lui. Poi le dice che devono pensare al futuro che le aspetta in Germania e si abbracciano felici. Demir viene arrestato e portato in carcere in una cella dove guarda le foto di Zuleia e dei suoi bambini. Con l'ennesimo arresto di Demir e una situazione estremamente complicata si chiude questa lunga puntata serale di domenica. Io sono Stefania, come sempre vi invito a seguirmi se volete a lasciarmi un commento o un mi piace. Vi mando un abbraccio e ci sentiamo presto.